ma è veramente dopo diciamo una mezza giornata di lavoro un aperitivo veloce ci vuole a questo è un aperitivo inventato dal maestro del crudo cotto e mangiato perché ricordate una cosa chef non si nasce si diventa uno pensa di nascere chef ma invece bugia si diventa mamma hai pennette alla stanchezza perché quale stanchezza di lavoro si cucina alla top cotto e mangiata